Ciao a tutti sono Spyro e oggi facciamo un vlog incredibile, la scalata su questa torre, io farò questa impresa incredibile, sì ma incredibile anche me, sì, e intè, facciamo una scalata, io sono 6 anni, vado, scaliamo, intanto fammi la musica di me qua, non è quella, scelgo, ma come cacchio mi inquadro se sei tu davanti scusami, si vede il dito, si vede, si vede il dito, salve, me ne vado prima io, il mio esploratore qua, oggi vi faccio Piero Angelo, vado avanti, ok oggi, vai avanti cretino, io esplico, questa torre è stata scostruita nel lontano 6.000 e qualcosa, non ve ne fate niente, scaliamo, venite che questo è fatto tutto indietro, se ne togliete una si casca probabilmente, se toccate, fa toccare con mano i nostri spettatori, toccate, se toccate, niente, qua è bagnato perché, perché anche la pietra deve fare i suoi bisogni, non è che c'è niente, e comunque andiamo avanti, e c'è questa pietra è bianca, perché è bianca, perché bianca, perché non è nera, non è che adesso, non facciamo i razzisti, su, niente, qua si va avanti, qua c'è una torre, qua c'è un tizio, e va davanti, in un quadrante, non mi cada signora cameraman, l'importante che si fa cosa sta facendo, si ma non fare inquadrare le dita perché se no lo vediamo merda venga avanti signorina grazie quando vuole e niente qua siamo dove siamo qua ci sono le famose bandiere tutte le bandiere che le vedremo dal lato quindi che cazzo stiamo facendo qua siamo mango non stiamo qua a pettinare non stiamo pettinando il paesaggio che è un po' una merda ma lei la finisce non deve vloggare quello che vloggo io qua c'è un famoso alzi lo sguardo telecamera incredibile ma c'è il wifi ci sono delle api questa è la famosa architrave dell'archi dell'archidiacono famoso architrave quello lì proseguiamo vado avanti signor buttana mi è venuto un attimo di vertigini qua c'è una bella inquadratura occhio mi vado bene mamma mia facciamo inquadratura pensavate di cadere invece non è vero non faccio cadendo perché la telecamera la risolve non so cosa sono sinceramente però continuiamo e qui se non siete troppo alte rischiate di battere infatti non sono alto io la testa come la tua capamele come la tua capamele come la tua capamele come la tua capamele sta dicendo la mia capamele me le fatte a lei le capamele comunque qua saliamo non vediamo le scale aspetti dove c'è andando lei muovere le scale le scale a triangolo perché aspetta che sto io muoio dritto non mi cadi però vieni vieni di su che adesso c'è il sole non ci vedo la vecchia vanno non venire vieni ma non vieni che ce la può fare intanto le bellissime inquadrature del mio cameraman che è studiata magari finisce di ridere e fa il suo lavoro grazie ok ok benissimo e questa è l'inguadrature di pra pro di pra di pra quello e vediamo cosa vediamo allora vediamo vediamo cosa vediamolo le tavole rotonde che in realtà sono ottogonali però chi se ne frega volevano risparmiare un po' qui vedi cosa vediamo cosa vediamo delle bandiere della nazione dei burundi il canteristan poi abbiamo la bandiera del congo con con l'eso congoleno e poi altre bandiere che adesso non stiamo facendo una lezione di bandiere quindi siamo non stiamo facendo non stiamo facendo la bandiera non stiamo facendo un po' Buon appetito! Il vlog esce qui, vi saluto su questa tavola per fare il palesamento dei sacrifici umani e ci rivedremo, grazie tante moto, ci rivedremo in un prossimo video, ciao ciao da Spiderweb